ciao e benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un progetto indispensabile per la stanza del cuscito ovvero questa dolce coccinella puntaspilli è un progetto di cuscito creativo molto semplice da realizzare e sotto al video in descrizione vi lascio tutto l'occorrente che ho utilizzato per realizzare questo progetto se vi piace questa idea vi invito quindi a seguire i vari passaggi del video tutorial e realizzare questa meravigliosa coccinella anche voi prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale ciao per realizzare questo progetto vi occorrerà questo cartamodello trovate il link sotto al video in descrizione e due pezzi di tessuto che io ho già posizionato dritto contro dritto posiziono quindi il cartamodello sopra il tessuto e con una penna nei traccia contorni a questo punto posiziono dell'imbottitura piatta e i due pezzi di tessuto in cotone sopra l'imbottitura fissando il tutto con degli spigli vado poi alla macchina da cuscire e vado ad eseguire una cuscitura lungo il contorno precedentemente tracciato quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a questo punto prendo solo il tessuto superiore fate attenzione a questo passaggio vado ad eseguire un piccolo taglietto e dall'apertura risvolto il mio lavoro sul dritto e questo è il risultato. Lasciate pure l'apertura aperta in quanto verrà posizionata sopra la coccinella. Per realizzare la coccinella sto utilizzando sempre del tessuto di cotone rosso e per realizzare un cerchio del diametro di 19 centimetri e mezzo utilizzo un piatto. Quindi lo posiziono sul tessuto, traccio il contorno e con le forbici taglio il mio cerchio. Adesso con ago e filo messo in doppio vado a realizzare un punto filza tutto intorno alla circonferenza del mio cerchio. Grazie. Inserisco poi all'interno dell'imbottitura morbida e chiudo il tutto con dei punti a mano. Grazie. 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 due parti in questo modo blocco il filo sul retro del lavoro lo faccio passare un paio di volte nella parte superiore e poi lo riblocco nuovamente con dei punti a mano e questo è il risultato per realizzare invece il visino della mia concinella utilizzo questa pallina in legno già decorata e vado ad incollare della lana nella parte posteriore della testolina con della colla a caldo a caldo a caldo incolla adesso le due parti insieme utilizzando sempre della colla a caldo con del nastro di raso ho realizzato un piccolo fiocco che vado ad incollare sul retro della testolina in questo punto qui per realizzare le antenne della mia cucinella utilizzo un pezzettino di fil di ferro che vado ad inserire all'interno della lana e nella parte superiore vado ad incollare due perline rosse come queste a caldo a caldo e questo è il risultato infine per completare la mia cucinella utilizzando un pennarello per tessuti vado a disegnare dei piccoli puntini neri su tutto il corpo oscena il corso a caldo ultimo passaggio vado ad incollare la coccinella sul mio quadrifoglio e dopo aver inserito gli spilli questo è risultato la mia bellissima e dolce coccinella è pronta spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile se vi fa piacere lasciatemi un like scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e non dimenticatevi di iscrivervi al canale ciao e al prossimo video iscriviti al canale